Anche quest'anno si terrà questo seminario estivo di Simbola qui a Manto, nella mia città, sono molto felice. Si parlerà anche del tema di cui la nostra azienda Renovo si sta occupando in questi anni, e cioè il tema della decarbonizzazione dei territori e di questo nuovo concetto di transizione energetica che passa attraverso il concetto di economia circolare. Noi ci occupiamo di progetti di economia circolare e territoriali, e quindi l'energia è una componente, la produzione e l'utilizzo dell'energia prodotta nello stesso territorio per noi è un must, è una mission che stiamo sviluppando in alcune aree italiane. Nella sostanza ci preoccupiamo di produrre energia da fonte rinnovabile, principalmente da produzione solare, quindi fotovoltaica e agrovoltaica, in cui noi incontriamo molto il coinvolgimento anche dell'agricoltura in tutto questo, accumulo dell'energia e quindi soddisfacimento del fabbisogno energetico di un'area territoriale dove insistono dei poli industriali e anche città. Questo è un sogno che abbiamo, una mission che secondo me si può realizzare, quindi l'autosufficienza energetica, quindi sicurezza energetica, e col sole noi siamo in grado di produrre, e con l'energia, tutta l'energia che serve per queste comunità energetiche che sono nascenti. Parliamo anche di idrogeno, quindi anche parte dell'energia verrà trasformata in idrogeno e quindi anche questo contribuirà al soddisfacimento e all'autosufficienza energetica dell'intero territorio. Grazie.